Vincitori della dodicesima edizione del Cuore Cino d'Oro, primi classificati. Lo diciamo insieme al grande patron di questa iniziativa. Andiamo prima con il coro, terzo. Circolo di Osti, Sonia Colori! E il Piemonte vince questa dodicesima edizione del Cuore Cino d'Oro. Invitiamo i ragazzi a salire sul palco. Venite, venite. Ricordiamo che si aggiudicano la borsa di studio del valore di 5.000 euro. E naturalmente il bellissimo trofeo e il diritto a partecipare alla prossima edizione del Cuore Cino d'Oro. Questo bellissimo spettacolo pirotecnico musicale sul lago per chiudere questa dodicesima edizione. Dedicato, dedicatissimo all'Italia. Spettacolo pirotecnico questa sera musicale. In modo da far sentire a tutti il brano vincitore. Li ascoltiamo, i vincitori! I vincitori, eccoli qua! Asti sognando a colori! Ognuno di noi ha un paio di anni. Solo bisogna imparare a volare. I vincitori, eccoli qua! Un piatto paletto, un po' di anni. 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 e per chiudere ufficialmente questa dodicesima edizione il coro di Asti prima dello spettacolo pirotecnico chiudiamo con la sigla e come vi abbiamo accolto vi salutiamo dicendo ciao bambini, buonanotte e grazie a tutti!